Ti voglio chiedere una cosa, un po' mi imbarazza, non so com'è, devo comprare un libro, no, non per me, no, è per una ragazza. Tipo? Bella, bellissima, allora bassini, con i capelli mossi, però bella, proprio. Legge? Eh sì, la volta che sa leggere, come se si è laureata, si è laureata di psicologia, aspetta, ragazzi, è nuova, scienza umana, molto umana, devi vedere quanto è buono, aiuta i figli dei drogati, tutti i bambini. Giù, testo letterario? No, un libro. Questo. Ma è buono? Perfetto. Ehi, te la porti indietro? Passo. Scusi. Grazie, ciao.